di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta per questa seconda parte della nostra rassegna stampa del mattino una seconda parte che apriamo subito con gli aggiornamenti su viabilità e meteo allora subito la parola al vice ispettore cristiano beretta in collegamento con noi dalla centrale operativa della polizia locale di udine per fare il punto sulla viabilità in città buongiorno buongiorno allora situazione al momento di traffico sostenuto senza però particolari problemi non abbiamo segnalazioni particolari quindi ne approfittiamo per ricordare in centro la chiusura di via bartolini e di piazza marconi con un divieto di transito quindi si arriva solo fino a piazza san cristoforo poi ricordiamo proprio in questi giorni appunto di inquinamento e di limitazioni la nostra ordinanza del piano di azione comunale che prevede dalle 16 alle 20 la chiusura all'interno della circonvalazione per i mezzi più inquinanti cioè quelli euro 0 euro 1 benzina e quelli diesel euro 0 1 2 3 motocicli cicomotori euro 0 euro 1 ecco per questi veicoli è inibito il transito all'interno della circonvalazione dalle 16 alle 20 grazie grazie allora il vice ispettore cristiano beretta per questi aggiornamenti anche per quanto riguarda appunto le limitazioni al traffico previste dal piano di azione comunale in questi giorni in cui e sentiamo un po anche a livello nazionale del problema delle polveri sottili del dell'inquinamento eh particolarmente eh elevato al centro del dell'attenzione al centro del dibattito allora chiudiamo il collegamento con la centrale operativa della polizia locale di Udine andiamo a vedere anche come la situazione sulle principali autostrade della nostra regione per quanto riguarda la eh viabilità eh sulla A4 la situazione al momento è tranquilla ma ehm Autovie segnala un incidente sulla A28 tra Porto Gruaro e eh Conegliano in direzione eh Conegliano un incidente in uscita a eh Pordenone eh Sud queste le eh informazioni fornite appunto dal dal da Autovie Venete dalla di Autovie Venete sulla A23 al momento eh non ci sono delle criticità da eh segnalare quindi viabilità nella norma per quanto riguarda le nostre eh autostrade mentre vediamo ancora un'immagine e che ci arriva proprio in tempo reale dall'A4 in questo caso un'immagine del Bibio A4 A23 e vediamo che la situazione è eh tranquilla eh il traffico è scorrevole. Allora chiudiamo anche l'aggiornamento eh viabilità e apriamo la pagina meteo. Allora andiamo subito dall'Osmerarp, andiamo da Livio Stefanuto per vedere assieme che tempo farà oggi e quale sarà il tempo di questo venerdì diciassette gennaio e anche del fine settimana visto che ci siamo. Buongiorno Livio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque oggi ancora una buona giornata, probabilmente l'ultima di questa lunga serie almeno per il momento. Oggi cielo sereno o al più poco nuvoloso per il passaggio di qualche strato in quota ma nulla di importante. Temperature massime con valori simili a ieri quindi massime tra i 10 e i 12 gradi. Questa mattina avevamo temperature leggermente superiori a ieri soprattutto sulla pianura più orientale mentre avevamo ancora temperature sotto zero nel Pordenonese. Domani il tempo cambia, arriva un fronte che formerà una depressione sull'Alto Adriatico, quindi domani cielo coperto su tutta la regione già al mattino con delle precipitazioni direi anche abbastanza diffuse, più deboli sulla fascia alpina dove potranno essere anche intermittenti, tra moderate e abbondanti invece dalle prealpi sulla pianura e sulla costa, in particolare sulle zone occidentali e quindi sul Pordenonese con nevicate anche abbastanza consistenti probabilmente sul Piancavallo. Quota neve direi piuttosto bassa attorno ai 500-600 metri circa. Soffiera Bora domani, quindi vento da nord-est, Bora che a Trieste potrà essere anche sostenuta, moderate invece in pianura e sul resto della costa. Temperature domani leggermente in diminuzione, domenica il fronte se ne sarà già allontanato dalla nostra regione, rimane un po' di variabilità al mattino, quindi ancora qualche nube nel corso della mattinata, un po' di Bora, Bora che sarà però più moderata, debole moderata sulla costa, poi ampi rasseranamenti a partire proprio dal pomeriggio e lunedì di nuovo una bella giornata con cielo sereno, poco nuvoloso, ma comincerà di nuovo a soffiare Bora, anche sostenuta sulla costa, a rivaria più fredda dal resto d'Europa, quindi temperature che saranno in diminuzione la prossima settimana. Grazie, grazie allora Livio Stefanuto per questi aggiornamenti sul meteo del fine settimana, mentre vediamo ancora una bella immagine che ci arriva in questo caso da Sella Nevea, vediamo che il cielo è sereno in queste prime ore del giorno, vediamo che qui c'è ancora abbastanza neve, speriamo che nella giornata di domani il manto nevoso delle nostre montagne venga rafforzato appunto da un po' di neve fresca. Una bella immagine anche questa come sempre che ci arriva dalle webcam che monitorano il territorio regionale. Chiudiamo adesso anche questa parentesi dedicata al meteo e ritorniamo sui giornali di oggi, ritorniamo a dare un'occhiata alle aperture dei principali quotidiani locali e poi come sempre ci concentreremo anche sullo sport in questa seconda parte della nostra rassegna stampa. Oggi è una giornata di campionato per il Pordenone che affronterà il Frosinone questa sera nella prima gara del girone di ritorno. Ne parleremo dopo, daremo ovviamente ampio spazio allo sport. Prima però come sempre un rapido aggiornamento di cronaca con un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 7.30 in provincia di Trieste sulla strada provinciale 1 all'incrocio per Padriciano. Due le auto coinvolte che per cause in fase di accertamento si sono scontrate. Una persona è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dal 118 sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per mettere in sicurezza le vetture incidentate e poi la polizia e i vigili urbani per i rilievi e per gestire la viabilità. Ecco proprio le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco. Un incidente di questa mattina appunto a Opicina per Padriciano sulla strada provinciale 1. E adesso ritorniamo sui quotidiani di oggi. Andiamo a vedere velocemente le aperture di Messaggero Veneto, Gazzettino e Piccolo. Il Messaggero Veneto di Udine apre con il nuovo atto di vandalismo al parco Martiri delle foibe. Udine nuovo raid, scritte ingiuriose contro gli infoibati, la condanna delle istituzioni e Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia dice autori miserabili e codardi. E poi una decisione del giudice del tribunale che dice ricordare la decima massa non è una manifestazione fascista. Il giudice ha respinto il ricorso dell'Ampi e domani a Gorizia ci sarà la tradizionale cerimonia con cui i reddici della decima massa ricordano i propri caduti. Una cerimonia sempre al centro del dibattito, sempre al centro dell'attenzione e anche delle polemiche. Ancora andiamo anche sulla prima pagina del fascicolo locale del Messaggero Veneto di Udine, vediamo anche qui l'apertura locale, muffa e gelo dentro gli spogliatoi, le donne delle pulizie dicono ci ammaliamo. La protesta della CISAL, chiediamo la chiusura dei locali, la direzione avvisa che a febbraio ci sarà il trasferimento e queste appunto le foto. Ancora andiamo anche sul Messaggero Veneto di Pordenone, anche qui abbiamo la cronaca in primo piano con la baby gang che ha devastato la stazione dei bus di Spilimbergo, dopo gli atti di teppismo pubblicavano il video delle imprese sui social. Sono otto ragazzini d'età compresa fa i tredici e i quindici anni. I genitori incredoli scrive il Messaggero, questo è l'articolo in prima pagina e poi vediamo nelle pagine interne appunto tutto l'approfondimento. Ecco qua le pensiline per l'attesa degli autobus tutte scritte, tutte rovinate. Ecco ancora segnalati otto ragazzini, lo stupore dei genitori. Le reazioni delle famiglie quando le abbiamo informate ci conforta visto che ci hanno assicurato che in futuro simili episodi difficilmente si ripeteranno affermato il comandante della polizia locale Pittoni. I familiari sono rimasti letteralmente senza parole, nessuno ha giustificato nemmeno quegli elementi che hanno partecipato alla scorribanda senza averne parte attiva ma solo per la curiosità di esserci. Adesso la palla passa in mano alla procura presso il tribunale dei minori di Trieste. Andiamo anche sulla prima pagina del fascicolo locale di Pordenone del Messaggero Veneto, qui si parla della candidatura di Pordenone a Città della Cultura. Pordenone rinvia di un anno, la capitale della cultura slitta ancora, un altro anno di studi. Puntiamo al 2022, mediazione dopo l'audizione in giunta di Cecconi, il sindaco Ciriani dice vanno eliminati i punti di debolezza e aumentati quelli di forza. Non è una rinuncia ma un rilancio, dice il sindaco Ciriani. Ancora andiamo anche sul gazzettino, il gazzettino del Friuli, andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura, regali e gadget, le spese della regione. L'amministrazione prevede uscite per 136.500 euro nel prossimo triennio in esborsi per rappresentanza, coppe, medaglie ma anche gadget e omaggi per gli ospiti di riguardo e le autorità istituzionali in visita che siano volumi rilegati o mazzi di fiori. Questa è l'apertura del gazzettino. Ancora andiamo anche sul piccolo, il piccolo di Gorizia. In questo caso vediamo invece in prima pagina la notizia che era stata inserita nel sommario anche del titolo di apertura del Messaggero Veneto. Il tribunale Stoppa Lampi non è fascista ricordare i caduti della decima mass. Archiviata la denuncia dei partigiani domani ci sarà la cerimonia a Gorizia esclusa casa Pound. E questa è l'apertura del piccolo di Gorizia. Che adesso chiudiamo per ritornare sulle pagine sportive dei quotidiani di oggi. Avevamo detto in apertura del Pordenone, Pordenone che questa sera tornerà a scendere in campo con il Frosinone per la ripresa del campionato di Serie B e il gazzettino titola così. Neroverdi trappola a Frosinone. Bomber Boccalon subito in campo. Tesser Nesta ha a disposizione un'ottima squadra, sono in zona playoff e hanno cambiato modulo. Fuori causa Ciuria e Almici tocca a Semenzato. Il tecnico deve scegliere trequartista e seconda punta. E poi anche qui abbiamo tutto l'articolo e le parole di Mister Tesser nel taglio alto. Il Frosinone è squadra dall'ottimo potenziale che ha fatto molti passi avanti rispetto all'andata. Lo testimonia la posizione in zona playoff che ha raggiunto. Nel taglio basso invece un po' di mercato, Ranieri all'Ascoli, Ramarri sorpresi. Il terzino sinistro sul quale aveva messo gli occhi il Pordenone, il terzino sinistro della Fiorentina ha preferito i bianconeri. Adesso Matteo Lovisa si getterà alla ricerca di un altro laterale. Andiamo anche sulle pagine del Messaggero Veneto, sempre per parlare di Pordenone. Andiamo a vedere anche qui i titoli. Eccolo qua, eccola qua tutta la pagina. Boccaloni in panca, il Pordenone con Chiaretti. L'italo-brasiliano tra i titolari ha Frosinone. davanti farà coppia con Strizzolo e Tesser. Come abbiamo visto avverte loro in crescita con il nuovo modulo. Si giocherà questa sera alle 21 al Benito Stirpe. Sarà semenzato a sostituire lo squalificato Almici Gavazzi, trequartista. E poi anche qui vediamo alcune curiosità. l'andata si rivelò subito il talento di Pobega Gol. Enestalo dai ramarri e lancia i nuovi Delia e Tabanelli. Questo per quanto riguarda gli avversari. Andiamo anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere se troviamo anche qui gli articoli dedicati al Pordenone. Ecco qua nel taglio basso proprio l'annuncio, la presentazione della gara di questa sera, l'anticipo di questa prima giornata del girone di ritorno. Tesser, il ritorno comincia con la tradizione a favore. Dal 2014 il Pordenone è imbattuto nella prima gara dell'anno. Il tecnico dice partiamo da dove ci siamo fermati. Pronti via è già grande sfida. Il 2020 e il ritorno del Pordenone comincia da Frosinone sul campo di una squadra battuta ad agosto e che si è rinforzata nell'ultima settimana con Delia e Tabanelli. Anche i frulani si presentano allo stirpe con un volto nuovo, Boccalone, che va in panchina. A confermarlo è Attilio Tesser che non vede l'ora di ripartire e punta, arriva a dire le gerarchie emerse nel 2019. Ricominciamo da dove ci eravamo fermati. E poi vediamo l'analisi della gara che in questo articolo si sottolinea l'insidia. È un match complicato perché il Frosinone deve risalire la graduatoria se vuole blindare i playoff e poi attaccare proprio quel secondo posto ottenuti dai neroverdi. Faranno di tutto, ha detto mister Tesser, per arrivare nella parte alta della classifica. e sono in ripresa. È un incontro impegnativo ma noi puntiamo a ottenere un risultato positivo che ci darebbe subito fiducia e morale. Vediamo anche qui Ciuria si è fatto male così al suo posto avanza Chiaretti. Per quanto riguarda la squadra di Nestra è dietro a meno sette, è importante tenerla distante. Ancora sempre per quanto riguarda la serie B, vediamo anche la pagina successiva con alcune novità per quanto riguarda la serie B, Cersei Cosmic che ritorna a Perugia, il mio Perugia è un frullatore tifo ed ho tutto per tornare in A. E dice non è più come 15 anni fa ma datemi tre rinforzi e vedremo cosa si potrà fare. Vediamo anche qui nel taglio basso Frosinone, Pordenone, il mercato, la VAR una B di novità. Anticipo di lusso, Nesta e Tesser da A. Intanto l'Ascoli fa il colpo Morosini e domani a Cremona il test arbitrare appunto la VAR. Rimaniamo sulle pagine della Gazzetta dello Sport e andiamo a parlare anche di Udinese della prossima gara dei Bianconeri domenica contro il Milan. Sulla Gazzetta l'articolo che viene proposto è in chiave rossonera, ecco qua la doppia pagina si guarda ai 100 giorni di Pioli e ai 21 di Ibra. Si affida a Zlatan, rilancia i nuovi, il suo Milan pratico ora convince. Il tecnico Emiliano ha portato concretezza tattica, fiducia nell'ambiente, sta valorizzando gli acquisti dell'estate. Ecco la sua rivoluzione silenziosa scrive la Gazzetta dello Sport. Vediamo poi che per la gara di domenica ci sarà uno stadio particolarmente pieno, tifosi in festa anche con l'Udinese già venduti 50.000 biglietti. L'orario della gara di domenica alle 12.30 non scoraggia a prevendita a grandi ritmi. Ci saranno anche tanti tifosi bianconeri a seguire la squadra domenica a San Siro. Continuiamo a parlare di Udinese, andiamo adesso sui quotidiani locali, poi torneremo anche sulle pagine della Gazzetta dello Sport e degli altri quotidiani sportivi per vedere un po' anche gli altri titoli. Ma a proposito di Udinese, torniamo sul Messaggero Veneto e vediamo la doppia pagina di apertura del fascicolo sportivo che titola così il flop in Coppa Italia non aiuta il mercato, difficile piazzare Teo. L'Udinese 2 delude, anche Teodorci che è considerato in uscita piaceva a Bejiktas, Anderlecht e Spal, ora potrebbe restare. Nella pagina accanto le parole dell'opinionista Rai, Antonio Di Gennaro, che dice se l'Udinese ha cambiato davvero la sua mentalità, lo vedremo con il Milan. Archiviato lo stop in Coppa, vedremo appunto quello che accadrà domenica, dice Di Gennaro, per un giudizio sul nuovo corso bianconero. E ancora andiamo anche sulle pagine del Gazzettino, per parlare anche qui di Udinese, vediamo anche qui il titolo dell'articolo principale, serve uno scatto d'orgoglio dopo l'orribile flop di Coppa. Con la Juve i bianconeri sono stati inguardabili, poca benzina nelle gambe e nessuna voglia di rottare contro i rossoneri, solo Samir sarà indisponibile in campo, l'undici che ha convinto contro il Sassuolo. E poi vediamo le prime righe dell'articolo di Guido Gomirato, andiamo a riprendere la pagina del Gazzettino, eccola qua. L'articolo inizia così, un fiasco autentico, un'esibizione da archiviare in fretta, tanto è stata brutta, non ci sono se o ma che tengano per lo 0 a 4 con la Juventus in Coppa, anche se tutti sapevano che le sorti del match erano praticamente segnate, ma era lecito onorare non solo la maglia, ma anche difendere l'immagine del club, è considerato che la sfida dell'Allianz Stadium è stata trasmessa in chiaro, non solo in tutta Italia, ma anche in altri paesi. Un pessimo spot, nessuno si è salvato, dice il Gazzettino. E ancora vediamo poi nel taglio basso il mercato, Barac in partenza, o poco tratta con la Mienz, lo Spezia pronto ad acquistare scuffette per Meret, tempi duri, scrive il Gazzettino. Meret che non vive un momento facile a Napoli, il recente infortunio ha permesso a Ospinia di tentare il sorpasso nelle gerarchie e Gattuso per ora sembra propendere per il colombiano. Andiamo di spalla e vediamo anche il passaggio sul Milan, ecco qua Ibraimovic sogna il gol per far festa sotto la curva. Chiudiamo adesso anche il Gazzettino e torniamo sui quotidiani sportivi nazionali, su Gazzetta dello Sport, Corriere e Tutto Sport, vediamo assieme i titoli di apertura, il Corriere dello Sport apre con il mercato, il titolo è all'Inter, clamoroso, Eriksen più Spinazzola, Young e Girozang, si gioca tutto per portare Conte allo scudetto. Stretta finale per la mezzala del Tottenham, preso l'esterno del Manchester United, ma l'insaziabile Marotta vuole anche la punta del Chelsea, si tratta ancora lo scambio tra Politano e il Romanista. Vediamo anche il Tutto Sport, Sarri avrò tre palloni d'oro, mi scoccia sapere che c'è chi ne ha vinto uno in più di CR7, aiuterò Cristiano a conquistare il prossimo. Poi toccherà a Dybala e De Ligt, queste le parole di Sarri. vediamo di spalla anche la Coppa Italia con l'ultima squadra qualificata agli quarti, la Roma che ha battuto il Parma per 2-0, Pellegrini regala la Juve alla Roma nei quarti di Coppa. Ancora andiamo anche sulla Gazzetta dello Sport, vediamo anche qui in apertura la stessa notizia che avevamo visto anche sul Corriere. L'Inter si fa in quattro, Spinazzola-Politano si tratta, Eriksen e Giraud avanti tutta. Marotta offre al Tottenham 15 milioni, cena tra la D e la gente del danese, ottimismo sull'affare, può essere il giorno del francese. Giornata frenetica, lo scambio con la Roma è più vicino, per quanto riguarda Spinazzola-Politano, obbligo di riscatto in base alle presenze. Questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport di spalla, vediamo Juve, il futuro Edibala, può essere lui il nuovo Ronaldo, e ancora Pellegrini scatenato, la Roma si guadagna una notte a casa Juve, e qui abbiamo poi il tabellone completo dei quarti di finale di Coppa Italia, che vedranno di fronte Napoli-Lazio, Inter-Fiorentina, Milan-Torino e Juventus-Roma. Nel taglio basso si parla degli infortuni nei campionati europei di calcio, crack in campo, sorpresa, Serie A all'ultimo posto nei cinque tornei top. La Premier è quella in cui si registra il maggior numero di infortuni. E qui abbiamo già visto l'articolo che presenta Milan-Udinese, Pioli, cento giorni di rivoluzione, più Ibrahimovi, c'è il Milan cambia. La polemica tra i presidenti, Viola-Atalanta non finisce più, perché si attacca, commisso, replica. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, ma entriamo adesso anche nelle pagine interne della Gazzetta e andiamo a scorrere alcuni articoli, andiamo a vedere in particolare un altro approfondimento che abbiamo visto richiamato in prima pagina, una notizia che avevamo visto prima, anche sul Corriere della Sera, in realtà il ritorno della Piccinini in campo. Andiamo a prendere la doppia pagina, così eccoci, vediamo se riusciamo a recuperare la doppia pagina, anzi no, eccolo qua. Infinita Piccinini, Busto, torno per vincere e l'Olimpiade la meriterò solo sul campo. Polazzurra, a 41 anni, firma sino a fine stagione. In un mese sarò al top, dice già domenica, in panchina a Chieri. E poi abbiamo tutto l'articolo, la regina del volley rimette divisa, ginocchiere e polsini. Francesca Piccinini ha firmato per la Uiba Busto Arsizio fino al termine della stagione. Nel settembre scorso la più vincente del nostro volley aveva annunciato il ritiro, ma con la testa non è in realtà mai uscita dalle palestre, tanto da continuare ad allenarsi in proprio, con serietà, forzando parecchio nelle ultime settimane, grazie all'ospitalità del Club Italia. mercoledì sera la telefonata con il presidente Giuseppe Pirola che ha comunicato il colpo direttamente alle ragazze di Busto. E poi vediamo appunto ancora le parole di Francesca Piccinini che torna dunque a giocare e punta alle Olimpiadi di Tokyo. Ancora un passaggio veloce, sempre sulla Gazzetta dello Sport per parlare di sci, perché il fine settimana vedrà protagonista la Svizzera. Wengen, l'ora del mito, la discesa più lunga ai piedi dell'Aiger, cima che non perdona. Oggi la combinata apre la Tre Giorni, domani la gara sui 4,2 km sotto la parete che ha ispirato film e ha scritto la storia anche tragica dell'alpinismo e vediamo appunto il titolo. Caccia all'orco. Questa è l'altra copertina della Gazzetta dello Sport con la quale chiudiamo questa seconda parte del nostro Buongiorno Friuli. Siamo in dirittura d'arrivo, allora c'è solo il tempo per ricordarvi un po' gli appuntamenti principali della giornata di oggi. Questa sera è venerdì e in prima serata vi proporremo uno dei nostri speciali del Tg, dal titolo Guerra Santa in Vaticano, in studio ospiti di Francesco Pezzella, Mauro Mazza e Roberto Pensa, e poi in collegamento da Roma il vaticanista Gianfranco Svider Koski. L'argomento del nostro approfondimento, il tema al centro del dibattito in questi giorni è quello della polemica scoppiata sul celibato dei preti che vede su due fronti opposti papà Francesco e il papà emerito Ratzinger, ne parleremo anche noi questa sera nel nostro speciale del Tg in onda dalle 21. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo alle 11 per la prima edizione del nostro Tg. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.